Il territorio di Cologna e Spiaggia nel comune di Roseto e la città confinante di Giulianova hanno avuto un weekend di fuoco a causa delle numerosissime vetture parcheggiate dai turisti un po' ovunque, non curanti della situazione di disagio che avrebbero potuto creare alla circolazione. A Cologna sono state diverse le segnalazioni fatte dai residenti e non solo, che hanno avvertito i vigili urbani di Roseto i quali hanno dovuto però rispondere alle chiamate arrivate in centrale che non avrebbero potuto garantire alcun intervento né potuto multare gli automobilisti in quanto nelle vie in questione manca una segnaletica verticale di divietro di sosta. Se avessero effettuato delle contravvenzioni gli automobilisti avrebbero però potuto contestare dinanzi al giudice di pace che le avrebbe quindi annullate. Una situazione davvero incresciosa, tenuto conto che si sapeva già da tempo che ad agosto il problema della carenza dei parcheggi avrebbe portato a questa condizione. I residenti a questo punto sperano un intervento delle squadre di operai per la sistemazione della nuova segnaletica sul divieto di sosta. Anche a Giulianova, problema analogo, il tratto di pista ciclabile nord della città, quello che arriva fino all'ingresso del ponte in legno sul Salinello è diventato oramai terra di nessuno. A denunciare lo stato di completo abbandono di quella zona non solo i ciclisti ma soprattutto i residenti che a quanto pare da anni non riescono a farsi ascoltare. Ci sono state petizioni, segnalazioni telefoniche, richiesti interventi ma fino ad oggi non è arrivata nessuna risposta.